Ecco i ragazzi che stanno partendo Dai ragazzi! Non riesco! Ho partito! Ecco! Cerca di fermarti, pa! Che ho fatto? Pa! 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 Non ci sono! Sei uscito! Dai non! Non sei uscito! Sei uscito! Come facci? Che ho fatto? Allora che arriva! Dai non! Ricordiamo! Grandissimo! Eeeh allora! Occhio! dinanzi! Non ce l'ho fermato! Non so che! ahahah quando sei là ti devi dare la spinta oh 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti